Sono Flavio Girodengo, il dirigente dell'Istituto di istruzione superiore Denina Pellico-Rivoira di Saluzzo. Ci scusiamo ma quest'anno per motivi di sicurezza vi proponiamo una visita virtuale dell'Istituto, il Denina Pellico-Rivoira e il Polo Tecnico Professionale del Saluzzese. La nostra scuola con un diploma quinquennale vi offre una duplice chance, proseguire gli studi post diploma universitari oppure inserirsi nel mondo del lavoro, tutti i nostri diplomati hanno la possibilità di trovare lavoro senza alcun problema. Ora vi lascio in compagnia delle tre referenti che vi spiegheranno le caratteristiche dei corsi che abbiamo nei nostri tre istituti. Buona visita! La sede Denina ospita ragionerie e geometri. Il corso geometri è caratterizzato dallo studio di materie come disegno, progettazione, costruzione, impianti, estimo e topografia che uniscono allo studio teorico anche esercitazioni pratiche sul territorio con una particolare attenzione all'ecosostenibilità e alla bioedilizia. Per quel che riguarda il corso di ragionerie è caratterizzato da un biennio comune in cui si studiano le materie comuni a tutti i bienni delle scuole superiori con una particolare attenzione al diritto all'economia e a materie che diventeranno regine nel triennio. Al termine della seconda gli studenti potranno scegliere fra tre indirizzi diversi. L'indirizzo RIM, relazioni internazionali per il marketing, con una caratterizzato dallo studio delle lingue stranieri, inglese, francese e tedesco. L'indirizzo SIA, sistemi informativi aziendali caratterizzato dallo studio dell'informatica per diventare ragionieri programmatori e l'indirizzo AFM, amministrazione, finanze e marketing, con uno studio approfondito del diritto, dell'economia politica e dell'economia aziendale. Scegliere ragionerie e geometri oggi vuol dire scegliere due scuole moderne, pratiche concrete capaci di fornire le basi per entrare direttamente nel mondo del lavoro oppure per continuare gli studi all'università e di fornire gli strumenti per comprendere due ambiti e due settori, quello economico e quello della tutela ambientale, particolarmente importanti oggi. Ciao a tutti, mi chiamo Gabriele Castellino e anch'io ho frequentato l'Istituto Carlo Di Nino di Saluzzo. Attualmente lavoro nel mondo delle energie rinnovabili, nello specifico nell'energia solare. Mi occupo della parte commerciale e della parte di analisi preventive, e analisi di affettibilità per la realizzazione di nuovi impianti, insieme al mio titolare. Questi cinque anni di geometra hanno permesso a me e i miei compagni di avere più porta aperta. Io ad esempio, dopo il diploma, ho eseguito un corso di due anni su risparmio energetico e biodilizia, mentre altri miei compagni hanno fatto architettura, altri ingegneria e altri ancora sono entrati direttamente nel mondo del lavoro. A te che stai guardando questo video non ti preoccupare, anch'io ho fatto terza media e anch'io non sapevo cosa fare nel mio futuro. Grazie alla bravura dei miei professori ho capito che cosa volevo fare nella vita. Ciao, sono Jessica, ho 24 anni e ho frequentato l'Istituto Denina Pellico-Rivoira con Sede Denina e nel 2015 mi sono diplomata in Amministrazione, Finanze e Marketing. Dopodiché ho deciso di intraprendere la carriera universitaria e proprio nel febbraio del 2021 mi laurerò in giurisprudenza. Diciamo che la mia scelta ragionaria è stata dettata dal fatto che fornisce sia una base per entrare nel mondo del lavoro, sia un'ottima preparazione per quello che è il percorso universitario. Grazie a tutti.